Due donne quarantenni di Palermo sono state denunciate a piede libero con l'accusa di circonvenzione di incapace appropriazione in debita di oltre 20.000 euro nei confronti di un impiegato di 60 anni di Alessandria della Rocca, in provincia di Agrigento. Secondo quanto ricostruito finora, le due indagate avevano avviato dei contatti con la persona offesa, fingendo di essere sentimentalmente interessate a lui. È stato lo stesso impiegato a denunciare quanto accaduto, dopo essersi accorto che le due donne avevano eseguito prelievi in diversi sportelli ATM e realizzato acquisti a nome del sessantenne Agrigentino. Diversi ancora i dettagli al vaglio degli investigatori, in particolare su come l'uomo abbia conosciuto le due indagate e su come queste ultime siano riuscite a impossessarsi dei dati della persona offesa. Una volta capito che in realtà non c'era nessun coinvolgimento ma solo la volontà di spillargli denaro, l'uomo non ha potuto fare altro che recarsi alla caserma dei carabinieri e denunciare quanto accaduto.